Il momento della sottoscrizione del protocollo d'intesa fra le due città è stato preceduto da una giornata dedicata all'undicesimo convegno di studi sulla cultura popolare e religiosa. Diversi relatori si sono confrontati sul tema crocifisso, prologo della resurrezione. Sicuramente atteso l'intervento di Sua Eccellenza Monsignor Ciro Miniero, arcivescovo metropolita della città di Taranto. I riti della settimana santa che coinvolgono pienamente le due città e che sono il segno e l'espressione della fede di due comunità che si ritrovano non solo nella comune fede ma anche nei riti che la esprimono. E' veramente un momento bello quello che si sta vivendo e quello che si è preparato già da tempo, questo gemellaggio che certamente siglerà ancora di più questa unione e questo scambio, scambio culturale e scambio di esperienze di fede. Coinvolto anche il mondo accademico il professor Paolo Pardolesi, direttore del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari Aldomoro. Sì, è un'occasione bellissima per poter dialogare su temi che sono molto cari poi al mondo universitario, anche del religioso, dell'interculturalità, un patrimonio complesso che va gestito e che richiede tanta tanta attenzione.